Caro Gianni Balsarini, da giornalista dovresti semplicemente raccontare i fatti non ergerti a fare la morale a dei tifosi che sono stanchi, che sono stufi di una Juventus distrutta da un allenatore che si sta rivelando pessimo Cosa ti cambia se i tifosi esultano o no? Cosa ti cambia se si scrive Allegri Out oppure si scrive Allegri In? Nell'uno e nell'altro caso il giornalista dovrebbe solo raccontare quello che succede ma lasciando in pace la gente di pensarla come vuole né soprattutto porre dei vincoli, se non vieni allo stadio non puoi capire e se io non vengo allo stadio proprio perché ho già capito e non voglio dare sostegno a questa squadra per esprimere dissenso devo per forza esprimere il consenso venendo allo stadio? E chi l'ha stabilito? Tu? Se Allegri ha potuto combinare questi disastri in panchina al di là di tutti gli alibi non è certo colpa dei tifosi che soffrono ma magari dei giornalisti che poi si mettono a fare la morale a quegli stessi tifosi e come vedi non ho problemi a fare nomi e cognomi Sarebbe bello essere menzionato anche io quando mi si devono fare dei video contro Sarebbe bello secondo i tifosi che vediamo While the